Gianni Anzelmi, attualmente consigliere regionale della Toscana, per due mandati è stato sindaco di Piombino. Come è cresciuto il Porto e oggi a che punto siamo? Sì, nei dieci anni in cui ho fatto il sindaco e anche dopo, perché io ho finito nel 2014, il Porto si è sviluppato molto dal punto di vista infrastrutturale, proprio perché nel 2013 noi sottoscrivemmo un accordo di programma molto importante con il governo, nel quale anche la Regione ha conferito oltre 300 milioni di euro, circa 130, per sviluppare banchine e scavare i fondali a meno 20 metri che oggi sono disponibili. Il Porto è infrastrutturalmente cresciuto molto, stanno lavorando in autorità portuale per i contenuti, perché non bastano le infrastrutture, servono poi i servizi, quindi elettricità, energia, digitalizzazione. ambientalizzazione delle infrastrutture portuali e servono quindi poi le imprese che svolgano la loro funzione. Il Porto è cresciuto, confidiamo che presto in questa nuova gestione di Luciano Guerrieri, dell'autorità di sistema, ci sia un ulteriore slancio in modo da dare conferma della bontà di quegli investimenti. Oggi possiamo dire che lo scalo di Livorno e quello di Piombino da competitivi siano diventati complementari? È un percorso in itinere, serve una visione complessiva, abbiamo visto i dati, Livorno è cresciuta sulle rinfuse, leggermente in flessione ai container, ma si è trattato di una, ci auguriamo tutti, di una questione transitoria, Livorno è il nostro porto contenitori, dopodiché Piombino può svolgere una funzione importante sia sulle rinfuse, sia eventualmente in modo complementare anche sui container, ma ciascun porto cresce nella sua identità, poi è compito di chi governa il sistema portuale, ci metto anche Portoferraio e Rio Marina, di avere una visione complessiva. noi abbiamo il compito di sbottigliare alcuni pezzi relativi agli ultimi migli portuali, penso allo scavalco ferroviario che ormai è in appalto, penso al secondo tratto della 398 a Piombino, c'è il tema dell'accessibilità ferroviaria che riguarda anche il progetto raccordo la vada con le salvetti e su questo invece bisogna lavorare perché non è ancora finanziato. C'è una crescita dell'interporto di Guasticce che è anche nei numeri che sono stati di recente presentati, ma io avendo lavorato per la regione in questi mesi sul recovery plan per conto del Presidente Gianni e avendo consegnato il lavoro proprio nei giorni scorsi, so che a Guasticce c'è un'importante progettualità sulla digitalizzazione, sul fresco, quindi il progetto TESI, il progetto Farmavalley e l'altro progetto Cold Village. Stiamo lavorando perché tutto questo materiale arrivi a una sua compiutezza e serve come dicevo una visione complessiva. Tornando su Piombino, quanto pesa la mancanza della tirranica? Pesa per tutti, perché a Piombino c'è questo combinato disposto dell'assenza della penetrazione, proprio nelle scorse settimane è stato affidato all'appalto del primo lotto della Montegemoli che si fermerà fino a Gagno, ma è già importante perché consentirà l'accesso alla zona nord del porto e poi bisognerà lavorare per finanziare e progettare il secondo tratto, quello che da Gagno arriva alla stazione marittima. È evidente che una sistemazione, una messa in sicurezza del corridoio tirrenico, ma ci aggiungo il corridoio plurimodale tirrenico perché ai porti vengono a pensare come siti di accesso anche ferroviario puntuale, non solo stradale. Manca molto la tirrenica, manca a tutti perché soprattutto in questa ultima versione che è stata condivisa, quella senza pedaggio, potrebbe sicuramente risolvere i problemi della sicurezza ma anche generare una maggiore quantità e qualità di traffici. Siamo davanti alle solite pastoie che segnano il nostro paese e che la nostra costa sta pagando in modo ingiustamente molto forte, molto alto. Sono molti anni, è un territorio nel quale si discute per troppo tempo di cose condivise, ma si vede difficoltà a vederne la luce e di questo bisogna occuparsi, ci stiamo già occupando, bisogna occuparsi con ancora maggiore intensità perché a Roma in modo particolare condividano l'ansia e l'urgenza di certi interventi. Immaginiamo che domani scompaiono le acciaierie di Piombino. Il porto su cosa può e deve puntare a quel punto? Noi lavoriamo perché la lavorazione dell'acciaio non scompaia ma si modernizzi. C'è in questo momento una acuzie della crisi che vede l'abbinarsi ai temi delle acciaierie vere e proprie, della Gindal, anche la Magona che nelle ultime settimane ha avuto dei seri problemi, sta avendo dei seri problemi. Noi abbiamo fatto una proposta al governo e tendiamo di essere ricevuti dal ministro Giorgetti perché la Toscana ha una sua posizione sull'acciaio, sulla modernizzazione della siderurgia in senso ecologico ma anche in senso efficiente dal punto di vista produttivo. Questo include anche una visione del porto che non deve essere monotematico, quindi servire esclusivamente le rinfuse e i prodotti per l'industria, ma richiede un governo delle aree, delle banchine, delle aree retrostanti integrato e anche aperto alla diversificazione dei traffici. Quindi il tentativo che ha in campo è questo. Risolvere il tema dell'industria serve anche a ridisegnare gli spazi perché lì ci sono mille ettari occupati dal SIN, dal sito di bonifica, quindi parlare di porti a Livorno e a Piombino significa anche parlare di bonifiche, non solo di pianificazione portuale, ma di bonifiche di reinsediamento e di attrazione di investimenti e di rivisitazione del contesto territoriale nel quale le imprese portuali e non vanno ad operare o possono andare ad operare. Un'ultima domanda. Se il presidente dell'autorità di sistema portuale Guerrieri le chiedesse un consiglio sul porto di Piombino, quale gli darebbe? Non ha bisogno di consigli perché ha fatto il presidente dell'autorità portuale di Piombino prima che fosse fusa con quella di Livorno per, se non sbaglio, una decina d'anni. Quindi Luciano Guerrieri, con cui ci sentiamo scorrevolmente, quasi quotidianamente, non ha bisogno dei miei consigli. Ha bisogno e non ha bisogno nemmeno della mia fiducia perché sa di averla. Quindi si tratta di lavorare insieme con i comuni. Socchia, Livorno, parlo spesso con l'assessore Bonciani, oltre che con il sindaco, c'è un lavoro importante. È stato sottoscritto un patto per il lavoro che riguarda anche il lavoro portuale. Vedo che c'è un lavoro importante in campo. Bisogna coinvolgere la comunità portuale, le professionalità, le organizzazioni sociali e imprenditoriali al massimo, condividere un battente, una visione forte e non mettere tempo in mezzo per fare le cose che devono essere fatte. Chiaramente più sarà la forza complessiva e coesiva di questi soggetti, meglio, più forti potremo andare sia con le istituzioni regionali e locali, sia con l'autorità portuale ai ministeri, in particolar modo al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero dell'Ambiente, che sono oltre allo sviluppo economico i tre ministeri più fortemente coinvolti e far valere le nostre istanze che sono quelle di un territorio che sulla portualità fa la voce grossa e deve continuare a farle.